Nuova perdita d'acqua questa notte alla Borgata squadra, pronto intervento. Una conduttura con la Brodo, alla Borgata, con la Siam S.p.A., costretta a rincorrere perdite un po' ovunque, come quella che si è registrata stanotte. Nuova rottura della tubazione circa 400 metri più avanti rispetto al luogo in cui si era verificata ieri, precisamente in via Piave, angolo via Trapani. La squadra è stata subito allertata, il tubo è stato tempestivamente riparato, l'acqua riaperta e il ritorno alla normale erogazione in tarda mattinata tra le 11 e le 12.